Io dipingo Collepardo perché è un paese che mi affascina, per i suoi vicoli stretti è una natura stupenda, anche se non sono ciociaro, ma di adozione ormai da 40 anni che risiede a Collepardo. Collepardo è un piccolo paese nel cuore della ciociaria, alle pendici dei monti ernici in un territorio montano che si sviluppa a partire dai 500 metri di altezza. Ci sono diverse versioni per quanto riguarda il nome di Collepardo, ma quella più attendibile è che si aggirava allora un gatto pardo e da lì il nome di Collepardo. Collepardo è detto il paese delle erbe, per via della ricca e variegata vegetazione che lo circonda. In questa zona, infatti, sono state classificate oltre 1200 specie di erbe, appartenenti a 150 famiglie diverse. La raccolta e l'utilizzo di queste erbe ufficinali a Collepardo è una tradizione che viene da molto lontano e nel corso del tempo si è consolidata a tal punto che ancora oggi ci sono famiglie che vivono di questo, come la famiglia di Marco. Fin da ragazzo ho accompagnato spesso mio padre in questi luoghi, ho accompagnato fino a che è stato in vita un mio nonno. Mi hanno in qualche modo inculcato i primi rudimenti proprio sull'amore della natura, la conoscenza delle piante, anche se era una conoscenza molto, molto popolare, era una conoscenza legata al territorio, non era una conoscenza di ordine scientifico. La sprezza dei luoghi, l'isolamento che queste comunità montane hanno vissuto per secoli, accompagnato dal senso di solitudine che qui inevitabilmente si vive, hanno portato molti abitanti di queste zone ad andare via, chi in cerca di lavoro e chi per avere una vita più agevole, ma chi è rimasto ha un legame indissolubile con queste montagne. Io ho l'abitudine di fischiettare quando ho la montagna, sempre, ovunque esci, senti le capre e senti le fischiette a me. Dicevo, sempre fischietto mai, dice la gente, però mentre fischio penso. A me mi vola la giornata, perché queste non è che stanno ferme là, tutte stufi da strada, queste in dieci minuti arrivano tra i confini, sballano verso il perro, le vengono in giro, quando fai tutto il giro, arrivi qua, si è fatto notte. A me la giornata vola proprio, guarda, proprio vola, vola, che vola. Anche Riccardo in gioventù è andato via da Collepardo, ma il richiamo e la nostalgia di queste montagne sono stati troppo forti e da una decina d'anni è tornato. Io ho scelto di tornare qua perché queste montagne, se non ci fossero stare, le avevo inventate. Mi piacciono da morire, ci sono nato qua. Conosco tutti i posti, tutti i punti, sorgenti, viuzze, stradelle, conosco tutti i posti di queste montagne. Le montagne dove vado, tutti i giorni quasi, praticamente è tutta la zona di Collepardo, perché sopra le montagne senza gli alberi sono di alatri. E la zona di Collepardo, queste montagne che vedete qua, sono tutte montagne. Poi andavo verso la Rotanaria pure, quelle là, ci sono andate per tanti anni, ma là è una montagna molto scomoda. E queste, ecco, queste montagne, come le vediamo, un giorno là, un giorno là, un giorno là, tutte le passano. Come ogni giorno, Riccardo accompagna il suo greggio di capre su per le montagne. E alla stessa ora, Marco ha un appuntamento a cui tiene molto nel centro del paese. Marco è uno dei massimi esperti erboristi in Italia e ormai da diversi anni dedica molto del suo tempo ad insegnare le sue conoscenze ai più giovani. Andiamo che tardi. Insegniamo a riconoscere in campo le piante officinali, insegniamo ad utilizzarle nel miglior modo possibile. E negli anni questo paese, chiamato appunto paese delle erbe, è diventato un punto di riferimento inevitabile per tutti coloro che vogliono specializzarsi in piante officinali. Ricordo perfettamente, per esempio, mio nonno, mio padre vicino a dei grandi contenitori di rame addirittura che cercavano di preparare delle miscele, delle miscele di piante. Questi odori così forti che per loro erano routine, per me quasi mi stordivano, mi davano la sensazione quasi di entrare in trance annusando questi odori pazzeschi. Ricordo anche le donne, i contadini, che magari venivano incaricati di raccogliere per esempio la mentuccia. Mi ricordo queste grandi fasci di mentuccia con questo odore così penetrante e forte che ancora adesso, raccontandolo, sembra di sentirlo attualmente. Per anni Marco ha studiato per specializzarsi nel settore, riuscendo così a legare la tradizione popolare alla conoscenza scientifica. Ragazzi, guardate un po'. Ecco, questa è la spaccapietra. Vedete che cresce con le radici inserite nella roccia. Si utilizza proprio per sciogliere le formazioni calcare. Raccogliere le piante è una questione di esperienza e conoscenza. Bisogna sapere dove cercare e soprattutto sapere quando la pianta ha raggiunto il suo maggiore periodo balsamico. È anche consuetudine che la raccolta venga effettuata in alcuni momenti della giornata che variano a seconda della specie e delle parti da raccogliere. Queste anticamente venivano chiamate le forbici dell'erborista. Chi raccoglieva le piante doveva saper usare queste due dita. Si mette il dito indice sotto il gambo della pianta tagliare, quindi così. Con l'unghia del pollice si preme, si fa una torsione, si spezza come se fosse una forbice. Chi vive in territori come questi, nei paesi, nelle zone rurali, ha un attaccamento smodato per il territorio dove si vive. Però si ha anche il bisogno di vivere quelle che sono le realtà caotiche della città oppure di luoghi molto più frequentati. Ci si adatta, ci si organizza, si riesce magari ad avere una dualità nella vita e si riescono ad apprezzare entrambi perché poi si ha sempre la possibilità di ritornare in quel luogo dove magari riesce a staccare completamente la spina e riesce a stare in posti come questo dove il silenzio regna assolutamente. Nel frattempo, Riccardo è arrivato fra le vette dei monti, guidato dal suo greggio di capre. I miei genitori facevano una transumanza con le bestie. Si partiva a settembre e si tornava a maggio-giugno. Stavamo facendo il fuoco tutta la notte, lo mettevamo con due bandoni così e ci dormevamo sotto, un telo, facevamo tipo una tenda, le baraglie. I formaggi si facevano fuori, col fuoco, col caldaio, mettevamo due pali, un palo, il paiololà, il fuoco sotto, si facevano i formaggi. E così, stavamo fuori, sempre fuori, tutte le baracche. La pecora mangia tutto, dovunque la porti. Invece si dice la pecora dove pasce e la capra dove nasce. Quindi la capra conosce tutto, sceglie tutto quello che piace a lei. Non sceglie le cose che non gli piacciono e non le mangia. La capra non beve l'acqua se non si specchia dentro lei, deve essere pulita. Alessandro, Federica e Simone stanno piano piano scoprendo la ricchezza del loro territorio, portando avanti così la tradizione erboristica che altrimenti rischia di scomparire. Alessandro, bisogna vedere se quella pianta lì in fondo è raggiungibile per la raccolta. Lasciamo il sacco. Molti ragazzi non vedono l'ora di compiere 18 anni per prendere la macchina e andarsene a Frosinone, a Taladri, dove c'è più movimento. Invece noi non vediamo l'ora delle belle giornate per andare in montagna e a divertirci o a raccogliere delle erbe. Si chiama Raperonzolo. È bella. La puoi restare e ci prepari un succo magari per le fettuccine. Prima giustamente andavano per lavoro, noi oggi andiamo per divertirci, però con la raccolta andiamo anche per lavoro. Poi dà un sacco di soddisfazione fisica e mentale la raccolta. Soprattutto. Torni a casa distrutto, torni a casa magari con le mani sporche, però non sei stato a contatto con magari, che ne so, un telefonino, magari ci sono pochi punti dove non prende. È sempre quello che non può usare il telefono e va in crisi. La pazienza è vista, caggemo per gemmo. Marco non solo insegna a questi ragazzi come riconoscere, raccogliere e lavorare le piante officinali, ma trasmette loro anche le origini storico-culturali della zona. C'è la leggenda del centauro Chirone, che durante un combattimento fu ferito e venne proprio alle pendici degli ernici. Trovò appunto un'erba officinale, che si chiama Centaurium eritrea, per curarsi. È infatti qui a Collepardo che lo storico tedesco Febronio colloca l'orto del centauro Chirone, creatura della mitologia greca e precursore della scienza. Non è quindi un caso che alla fine del Novecento, il monaco benedettino Domenico da Foligno, divenuto poi santo, arriva in un luogo chiamato Trisaltus, Trevalichi, oggi Trisulti, situato appena sopra il territorio di Collepardo. Ancora oggi questa valle è dominata dall'imponente struttura della Certosa di Trisulti. Trovi di sbucare a un certo punto che non te ne aspetti, tra questi monti ernici, ti trovi tutte quante le mura di questo luogo e pensi veramente una cosa incredibile. Cristina è una guida turistica del luogo e fra i suoi itinerari, qui in Ciociaria, c'è anche l'antica Certosa di Trisulti. Arrivi qua, vedi che non c'è quasi nient'altro intorno, fatto anche che il telefono, che ormai è una cosa che uno ci ve quotidianamente non prende, quindi vuol dire che quando sei qui non devi pensare a nient'altro, devi stare in contatto con la natura, con Dio se vuoi, ma comunque sia rimane quest'aurea di grosso fascino o anche di vita quasi un po' eremitica. L'abbazia originale si trova poco distante dall'attuale Certosa e di essa restano alcuni ruderi. Quella attuale fu costruita nel 1204, nei pressi della precedente, ma in un sito più accessibile, per volere di Papa Innocenzo III, e fu assegnata ai Certosini, uno dei più rigorosi ordini monastici della Chiesa Cattolica. I monaci curavano da soli i piccoli malanni quotidiani, sfruttavano le erbe molto presenti nella selva qui di fronte, perché comunque anche per loro era difficile trovare un medico, far venire qualcuno qui per curarsi, e perciò quello che avevano lo sfruttavano un po' in tutti i modi. Questa scelta di vita è forse la chiave per capire perché a Collepardo è così radicata la tradizione erboristica. Infatti è la farmacia il vero gioiello della Certosa di Trisulti. Realizzata nel XVIII secolo, segue lo stile pompeiano in voga sul finire del Settecento. Nella farmacia, ancora oggi, si possono vedere i vasi in cui i monaci conservavano le erbe medicamentose e i veleni estratti dai serpenti. Il salottino ad attesa e il corridoio sono dipinti dal pittore napoletano Filippo Balbi, in maniera molto originale. Il corridoio è famoso per alcune sceni, come può essere quella del ricco e del povero, che è quasi una parodia del ricco grosso e arrogante, del povero goffo e dimesso. E poi c'è il raffronto anche nel mondo animale, dove c'è il pellicano con il becco stracolmo, ma chiuso per non far prendere nulla all'altro. E si vuole dire invece che chi ha tanto dovrebbe aiutare chi ha bisogno, perché non conta nella vita la ricchezza materiale, non conta il potere, perché poi di fronte a Dio siamo tutti uguali. Il giardino all'italiana, con siepi di bosso, era un tempo l'orto botanico dei monaci. Oggi Collepardo ha un nuovo orto botanico, situato a metà strada tra la chiesa di Tresulti e il paese. Nato nel 1991, il giardino botanico orto silvatico è dedicato alla flora autottona. Questa è il giaggiolo della Marsica, Iris Marsica. È una pianta molto importante per noi, perché è presente solamente sui monti della Marsica e sui monti ernici e in qualche altra piccola cima dell'appenino centrale. Riccardo è un botanico e si occupa insieme ad altri volontari di questo giardino. In uno spazio di quasi due ettari vivono numerose piante arbore, arbustive ed erbacee. Si contano circa 400 specie vegetali, oltre agli animali tipici dei boschi e delle zone aperte. Non è inusuale, infatti, vedere il magnifico volo di un rapace come la Poiana. La funzione di questo giardino botanico è essenzialmente didattica. Il visitatore può conoscere nel dettaglio, attraverso un percorso guidato, l'intero ecosistema dei monti ernici. Molti visitatori, quando entrano nel nostro giardino botanico, ci chiedono questa pianta si mangia? Questa pianta qual è l'uso? Qual è la finalità? A cosa serve? Tutte le piante servono a qualcosa. Qualcuna serve a noi, qualcuna serve ad altri animali, qualcuna serve ai funghi. C'è un ecosistema che è molto complesso e quindi ogni pianta, ogni organismo ha il suo ruolo e deve essere per questo rispettata, tutelata e conservata. Adesso ti faccio vedere un regalo che ci hanno fatto i bambini dell'asilo, della scuola dell'infanzia di Collepardo. Sono dei piccoli tronchetti che i bambini hanno vestito, muschi, foglie, licheni e ognuno di questi ha un nome e ha una piccola storia. Questo progetto, che appunto ha radici molto lontane, è andato avanti anche in altre forme in questo territorio. Ad esempio abbiamo da qualche anno allestito anche un museo naturalistico nel centro storico di Collepardo proprio per avere anche un'altra possibilità di far conoscere le caratteristiche di questo territorio, farle apprezzare, divulgarle e quindi un museo naturalistico che è un ambiente completamente diverso da questo perché è un ambiente chiuso all'interno di un edificio del centro storico ha una funzione che è differente ma complementare a questa. L'ecomuseo di Collepardo difende ciò che è in superficie ma anche il sottosuolo. Infatti essendo questo un territorio d'origine carsica possiede una ramificata rete sotterranea di grotte. Le grotte Regina Margherita in prossimità del torrente fiume si distinguono per la presenza di un'immensa sala nella quale si stagliano enormi stalattiti e stalagmiti che viste in penombra stimolano la fantasia nell'immaginare volti e figure tanto da meritare il nomignolo di grotte dei bambocci. Una grotta più piccola e secondaria costituisce il rifugio per numerose colonie di pipistrelli. Anche il Pozzo d'Antullo si suppone fosse una grotta che in seguito al crollo della volta è oggi una grande voragine profonda 60 metri e larga 300. Nel fondo del Pozzo coperto da vegetazione sono presenti delle curiose stalattiti curve generate probabilmente dal vento proveniente dai cunicoli laterali che modifica la deposizione dei cristalli di calcare. Sui sentieri delle loro montagne inevitabilmente Marco e Riccardo si incontrano soprattutto nei periodi di raccolta delle erbe e proprio da questi incontri è nata l'idea di collaborare per cercare di creare nuovi sapori. Marco ha infatti preparato e portato a Riccardo un estratto di cardo con il quale il pastore proverà a fare dei formaggi con un caglio vegetale. Siamo stati raccogliati un po' di erbe ascolta quella prova che avevamo detto di fare io ho preparato il liquido da utilizzarsi come caglio e l'ho fatto facendo il succo della carlina che è quel cardo che vedi quando vai sopra quando lo incontri dopo i 1000-1200 metri circa e vabbè cominciano a starci allora se facciamo sta prova lo utilizzi per ottenere il formaggio che già è buonissimo di suo quello che fai facciamo sta prova per fare il formaggio col caglio vegetale mi informerò come no grazie mille buon lavoro a disposizione grazie a voi rivederci a tutti ciao ciao buon rivederci buon rivederci ciao 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 Riccardo e Marco con il caglio vegetale stanno provando ad unire i loro due mondi quello dell'erborista e quello del pastore la preparazione del formaggio è un'altra parte importante della laboriosa giornata di Riccardo qua dentro bisogna vedere con gli occhi della mente per fare con le mani sto vedendo il formaggio che deve diventare come una palla come la luna deve diventare per fare questo mestiere ci devi avere un po' di passione ti diranno piacere gli animali devi non pensare che oggi è domenica non pensare che oggi è sabato che è Natale la mattina è iniziale il più tardi alle 5 io sto qua e la sera se non sono le 10 le 11 non rientri mai o che c'è qualche impegno o che ti fermi a fare le formette o che ti fermi a finire a Mungio quando ti arturiscono devi stare la notte al giorno perché fanno tanti doppioni devi dei figli li devi separare li devi accoltare mi piace farlo ma a un certo punto è pura una vita dura dura è dura Marco insieme ai ragazzi sta lavorando in laboratorio i fiori raccolti per poterne fare un estratto estratto che poi servirà a produrre la sambuca che ormai da 100 anni è il liquore simbolo di questo paese gli estratti che noi prepariamo hanno la caratteristica di essere estratti preparati con piante freschissime e quindi con nel loro interno tutti i principi attivi presenti nella pianta quali sono i tempi di estrazione? i tempi di estrazione è una fase molto importante perché deve superare un certo periodo di giorni per poter effettuare un'estrazione totale della pianta che utilizziamo di solito parlando di pianta fresca quindi questo è un estratto utilizzando una pianta fresca sono 21 giorni di tutte le piante vengono utilizzati solo i fiori? no ogni pianta ha una parte di utilizzo che viene chiamata tecnicamente droga questa parte che si utilizza è la parte che contiene il massimo dei principi attivi nel sambuco sono i fiori per esempio in altre piante troviamo i principi attivi nella radice in altre ancora nelle foglie e così via ogni pianta ha la sua parte utilizzabile dispiacerebbe veramente moltissimo perdere questo patrimonio che è un patrimonio anche di ordine culturale che riguarda il territorio e quindi sto cercando in ogni modo di favorire l'interesse affinché possano dedicarsi in un futuro al proseguimento di questa attività queste sono nozioni non scritte tramandate da a me le ha tramandate mio nonno e mio padre adesso spero che voi ragazzi che venite a fare questi corsi venite ad imparare come si procede in questo lavoro sappiate che è un lavoro di pazienza bisogna sapere attendere e osservare questi ragazzi non perdono occasione per dimostrare il loro attaccamento alla tradizione e alla loro terra infatti da qualche anno insieme ad altri giovani del paese hanno riportato in vita una festa mai veramente dimenticata la festa di san giovanni che si svolge il 23 giugno giorno della nascita del santo intorno a un falò l'intera comunità si riunisce con lo scopo di scacciare diavoli e malefici a Collepardo i veri protagonisti dell'evento sono la pianta dell'artemisia e i fiori come l'iperico chiamato anche erba di san giovanni o scaccia diavoli con i quali avviene il tradizionale battesimo del compare ognuno munito di un mazzo di fiori battezzerà colui o colei che da quel momento diviene compare di san giovanni di san giovanni